Ciao a tutti ragazzi siamo ritornati con un nuovo episodio di Serio Sam e la... Ma perché? Perché mi chiedo? Sbawarossus Aroo... Ma dove c'è? La bomba però qua non la voglio Non la voglio tutta Ma chi sono? Ma sono già chi! Ma i morti entrano Come entro io? Eh vieni Me l'ho chiuso fuori Eh vabbè capito E che ti sei chiuso dentro eh Ah fanculo! Ti sei chiuso dentro 40 di vita pur Eh tu vai da solo io non posso aiutare Ah! C'è del teleporto Ecco Aiutami Aiutami Perché la casa di Dio Eh dietro Stagnino Eh dove ho detto Eh dove è lo Stagnino La fan... Un giro Dov'è la fan di Dio? Dov'è la fan di Dio? Dov'è la fan di Dio? Sì 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 Vedi che non è servito a niente Eh però è servito a farti campare un po' di più Eh ho 5 di vita ma muoio No io non voglio morire Vai vai Ok Lui mi ha dato il... 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 Ho sopravvistuto con 5 di vita Ah... Ok ragazzi Ok ragazzi Ok ragazzi anche per questo episodio era tutto Noi ci salutiamo Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti Cazzo che casino